Un viaggio nella storia della città, ripercorrendo l'antico splendore del passato, grazie ad alcune preziose testimonianze. A Paternò, nonostante la finale di Champions League, che vedeva tra l'altro impegnata una squadra italiana, in tanti hanno scelto di vivere una serata ricca di cultura e storia, partecipando alla Notte dei Musei. Cinque le tappe, l'ex monastero, la biblioteca comunale Giovanni Battista Nicolosi, il piccolo teatro, la cappella del Santissimo Crucifisso e la chiesa di Santa Caterina. L'ex monastero, esposta una piccola parte del tesoro delle suore benedettine, esposta anche la poltrona sulla quale si è seduto il Santo Padre San Giovanni Paolo II nella sua visita a Catania negli anni 90. Argenti e paramenti sacri hanno catturato l'attenzione dei visitatori su tutti il magnifico stensorio realizzato in argento e pietre perziose. In biblioteca comunale presenti volumi originali scritti dal sacerdote e geografo paternese Giovanni Battista Nicolosi. Da non perdere poi la mostra dei pupi siciliani al piccolo teatro, oltre ai locali del Santissimo Crucifisso, che ospita a Natale e Pasqua due eventi unici nel loro genere con l'esposizione dei presepi. Per chiudere con la chiesa di Santa Caterina, dove è stato possibile ammirare anche i sotterranei. Questa notte dei musei era stata pensata per il 20 maggio, in tutta Italia era il 13 maggio, noi avevamo cercato di farlo una settimana dopo proprio per invogliare le persone a rimanere a paterno e guardare le bellezze, i tesori che abbiamo qui nella nostra città. Purtroppo il maltempo ha dovuto farla rinviare, la prima data utile possibile era proprio il 10 giugno. Abbiamo una buona affluenza di persone, molto incuriosite per ciò che viene esposto. Dicevo il tesoro delle Benedettine, qui in biblioteca gli originali dell'Hercules Siculus di Gian Battista Nicolosi, poi ci sono delle mostre di cartoline di annulli filatelici da parte dell'associazione Upis, alla piccolo teatro una mostra di pupi siciliani, che è una collezione privata della famiglia Doria, la chiesa di Santa Caterina che espone anche le sue bellezze architettoniche e la cripta, la cappella del bellissimo Procifisso. Noi speriamo che questa iniziativa possa portare quante più persone a incuriosirsi, sia innamorarsi del nostro territorio e possibilmente essere una pietra miliare. Si inizia quest'anno e l'anno prossimo si cerca di migliorarla e di ingrandirla sempre di più.